Ciao a tutti, sono Manuela e in questo appuntamento voglio parlarvi del servizio civile in compagnia di due volontarie del comune di Casalecchio di Reno, Sabrina e Doriana. Sabrina partecipa al progetto Volontari tra scuola ed extra scuola, collabora quindi all'organizzazione dei vari servizi scolastici. In particolare presta la propria attività, affiancando un'educatrice, nei singoli servizi dei nidi, centri gioco, ludoteca e come educatrice familiare e domiciliare. Doriana invece è volontaria del progetto Una biblioteca per la città. Partecipa attivamente a tutte le iniziative della biblioteca e nello specifico si occupa dell'area bambini e collabora alle attività loro dedicate che hanno luogo soprattutto il sabato. Perché avete deciso di iniziare l'esperienza del servizio civile, Doriana? Diciamo che è stata una casualità in quanto mi trovo qui a Casalecchio da giugno dell'anno scorso e ho iniziato a frequentare la biblioteca di Casalecchio di Reno. Nall'interno della biblioteca ho trovato il bando del servizio civile, una biblioteca per la città. Ho deciso di partecipare proprio perché si addentra un po' negli studi che sto frequentando. Diciamo che la scelta è stata semplicemente dettata da un'esperienza formativa. Una volta entrata in questa esperienza ho appreso che c'è qualcosa di più dell'aspetto formativo. Sabrina? Anch'io sono venuta a conoscenza del progetto del servizio civile un po' casualmente perché abitavo qua a Casalecchio di Reno da un po' di mesi e così sul giornale appunto del paese, Casalecchio News. Ho letto il bando del servizio civile e ho pensato fosse un ottimo modo per iniziare non solo un'esperienza lavorativa ma anche per addentrarmi un po' nel paese, nella realtà del paese e conoscere così anche un po' di gente. Il servizio civile nazionale fonda le sue radici nel 1972 quando a seguito di azioni di protesta di organizzazioni non violente contro il servizio armato fu approvata la legge numero 772, norma in materia di obiezione di coscienza, che istituiva il servizio civile a sostituzione del servizio militare, quindi obbligatorio. L'esplosione numerica degli obiettori fu tale da raggiungere nel 1999 circa 110.000 domande. Dal 2005 in poi si svolge invece su base volontaria ed è considerato un modo di difendere la patria, non una difesa riferita ai servizi esterni dello Stato, ma una condivisione di valori comuni mediante servizi di utilità sociale. Un anno della propria vita che ragazzi dai 18 ai 28 anni mettono a disposizione per un impegno solidaristico, quindi a sostegno della pace. Sabrina, pensi che questi valori vengano ancora tenuti in considerazione da parte di chi decide di iniziare un progetto di servizio civile? Sinceramente per quanto mi riguarda credo proprio di no. Io parlo della mia esperienza personale, ho intrapreso appunto questo tipo di esperienza semplicemente perché mi sembrava un ottimo modo per iniziare così una prima esperienza lavorativa e non ho mai pensato di fare il servizio civile per difendere la patria o per compiere un atto solidale nei confronti degli altri. Anche se poi è un'esperienza che vivo tutti i giorni nella pratica proprio del servizio civile, ma credo siano dei concetti che sono un po' superati e che non facciano tanto parte della realtà che viviamo, dove i problemi dei ragazzi sono ben altri. Sono sicuramente la ricerca del lavoro, una stabilità di tipo lavorativo ed economica che va ricercata anche in questo tipo di esperienza. Doriana, tu collaborerai con il Copres della provincia di Bologna, che è il coordinamento provinciale degli enti di servizio civile, che è nato nel 2004 come strumento di promozione del servizio civile volontario. Andrai a promuovere appunto il servizio civile all'interno delle scuole e delle università. Sì, il Copres ha trovato un nuovo modo per pubblicizzare il servizio civile ed è quello proprio di far entrare le persone che attualmente vivono l'esperienza del servizio civile a contatto con le realtà giovanili, come può essere le scuole superiori e le università. Quindi portare la mia esperienza può essere un modo per facilitare la scelta di chi è ancora indeciso e ha comunque preso in considerazione la scelta del servizio civile. E cosa diresti ad un indeciso per convincerlo a prestare servizio civile? Sicuramente che è un'esperienza che va fatta, quindi se si ha la possibilità, l'opportunità e soprattutto l'interesse per un progetto che viene proposto, di buttarsi e vivere l'esperienza in fondo è un anno, forse è tanto, però per l'esperienza che ti dà forse è poco. E tu Sabrina, pensi che sia formativo per un ragazzo? Io credo proprio di sì, perché a me sta dando tanto, in quanto sto facendo un'esperienza pratica di quello che poi studio in teoria all'università. Quindi sto riscontrando tutti quei concetti teorici appunto che vengono tanto propinati all'università nella realtà di tutti i giorni, perché lavoro a contatto con i bambini, nelle varie realtà extrascolastiche di Casalecchio di Reno. Quindi penso che sia un'esperienza molto formativa, sì. Grazie mille ragazze per averci offerto la vostra testimonianza. Sono sicura che questa chiacchierata aiuterà molti indecisi a partecipare ad uno dei tantissimi progetti del Servizio Civile Nazionale. Ringrazio anche voi, amici ascoltatori, per l'attenzione e ci risentiamo al prossimo appuntamento sul mondo del volontariato. Ciao! 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 Ciao!